buongiorno mattia siamo qui a presentare questo incontro del 29 di giugno octagon tsunami nutrition come ti senti sei pronto no sono un po agitato non so se combatterò no sto scherzando perché faccio sempre una battuta che sono le classiche giustamente domande che si fanno a ridosso del match come stai disallenato guarda così un paio di volte a settimana non c'avevo tempo ne ritagli di tempo un pochino mi sono impegnato e a parte scherzi si sto carico siamo concentrati combattere a roma è sempre un privilegio un piacere oltre che ovviamente una grande responsabilità noi si scherzava anche perché ormai non sei solamente un combattente professionista o un kickboxer se sei anche diciamo un po famoso popolare per le tue uscite su roma quindi volevo sui social sei molto popolare anche per questa era la domanda ma sicuramente ti sarai informissima e parlavi prima della responsabilità se anche un polo attrattivo per la città molti ragazzi si identificano in questo nel combattimento nel fair play che comunque trasmetti è questa responsabilità come come poi credi di portarla sul ring sicuramente un atto di consapevolezza che mi inorgoglisce da una parte dall'altra come detto la grande responsabilità ti genera poi grandi pressioni emotive grande ansia da prestazione perché bene o male nel bene o nel male stiamo cercando no di ricreare risonanza mediatica nel nostro sport stiamo cercando di riportare l'utente non di nicchia ad interessarsi del nostro scenario e come lo come li catturiamo in quel modo diciamo che conoscono magari manti a faraoni in un contesto diverso come può essere quello di un video social un video nella metro contro i borseggiatori ecco poi la persona si interessa la persona l'individuo ah ma c'è un match ok allora fammelo andare a vedere fammi andare al palazzetto questo stiamo generando sicuramente sono molto orgoglioso di questo perché al netto di quello che poi posso continuare a raggiungere sportivamente sicuramente poter dare una mano a tutto la dimensione del fighting è una cosa che insomma mi rende fiero